benvenuti a tutti in logistics ed analytics italia nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante lo strumento selezione che è un pochino nascosto all'interno della barra di status di libreoffice writer allora vediamo subito un esempio noi abbiamo questo file di testo abbiamo aperto con libreoffice writer vedete che sembra un file di testo provenire da un vecchio foglio di videoscrittura infatti sono stati utilizzati questi vecchi strumenti che sono i tabulatori poi sono stati sostituiti con strumenti più sofisticati come il testo a colonne per fare ad esempio pagine di giornali oppure anche le tabelle allora noi vediamo che abbiamo questi due blocchi di testo ma vogliamo selezionare soltanto questo qua di questo colore in arancione se noi utilizziamo la selezione standard vediamo che cliccando mantenuto mantenendo premuto il tasto sinistro e muovendoci con il mouse vedete che ci seleziona tutti due allora come fare per in questo caso selezionare solo un blocco di testo lo strumento è nascosto qui nella barra di status vedete selezione standard se non lo clicchiamo possiamo scegliere la selezione a blocchi questo si seleziona blocchi quindi modifichiamo praticamente l'opzione della selezione adesso se indugiamo vedete c'è scritto selezione a blocchi adesso noi qua possiamo cliccare se ci muoviamo col mouse vedete possiamo selezionare esclusivamente il blocco di destra gli diamo un po di tempo a questo punto possiamo fare tasto destro copia andiamo qua giù facciamo tasto destro incolla ed ecco che vedete noi abbiamo selezionato soltanto il blocco di destra questa cosa qui si può fare soltanto se in basso viene selezionata la l'opzione a blocchi perché abbiamo visto se noi selezioniamo la standard praticamente ci seleziona tutta la riga e così non va bene mentre se selezioniamo a blocchi vedete noi possiamo praticamente dividere il blocco di destra con quello di sinistra già che ci siamo vediamo c'è un altro tipo di selezione interessante per esempio possiamo fare la selezione con aggiunta e vedete che noi se facciamo questa riga qua poi possiamo togliere il mouse saltiamo possiamo fare questa riga qua possiamo togliere il mouse saltiamo possiamo fare questa riga qua possiamo togliere il mouse vedete questo a blocchi è come se pigiassimo con la mano sinistra per esempio control sulla tastiera noi possiamo saltare vedete e prendere dei blocchi differenti no e poi quello che possiamo fare vediamo come ce lo fa facciamo tasto destro copia andiamo in basso facciamo invio e vediamo tasto destro in colla vediamo che cosa ci fa vedete ci ha inserito praticamente il blocco nero all'interno del blocco diciamo arancione facendo a salti questo qua praticamente è la selezione vedete a standard andiamo indietro rivediamoli un pochino velocemente semplicemente un attimo sempre andando indietro se noi abbiamo la selezione standard praticamente e ci seleziona tutta la riga se noi e selezioniamo in questo strumento qua la selezione a blocchi noi possiamo dividere il testo e selezionare un blocco e poi fare copia incolla o taglia incolla se noi invece selezioniamo l'opzione con aggiunta che sarebbe il control della tastiera vedete possiamo con il mouse fare la prima selezione lasciamo il tasto ripremuto la seconda selezione la terza facendo a salti quindi con aggiunti sarebbe la selezione multipla discontinua bene questo era l'argomento di oggi spero sia stato utile e di vostro interesse il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino alla fine al prossimo video di logistics ed analytics italia